Era una partita oggi, oggettivamente, molto difficile, con un avversario forte che secondo classifica si gioca alla promozione dell'attenzione aria. Noi abbiamo fatto la partita perfetta, secondo me, con questo gran caldo che riusciamo a giocare ritmi che sono devastanti per i nostri avversari. Da un pezzo che noi facciamo le belle partite e le grandi prestazioni. Abbiamo fatto comunque una partita, una grandissima partita, perché battere il Frosio non è mai facile. Ci siamo riusciti, siamo andati fuori per adesso, che non dobbiamo assolutamente staccare, come si dice, alzare la testa dal manubrio. Stiamo lì a pedalare a testa bassa. Dobbiamo insistere, mancano quattro partite alla fine, mantenere questo atteggiamento perché è ora di raccogliere i frutti di quello che si è seminato. Sotto l'aspetto degli episodi non mi sembra che il Frosinone comunque non abbia creato i presupposti per, quantomeno, per poter uscire da qui con un risultato di parità. Perché nel primo tempo c'è stata una grande occasione per il Cesena con Yallò, ce n'è stata un'altra abbastanza sacrosanta con Gori. Siamo andati in svantaggio per un calcio di rigore nell'unica volta in cui comunque il Cesena nel secondo tempo era entrato in area. Nella nostra pressione abbiamo creato comunque qualche situazione, vedi anche il palo che non ci ha permesso di pareggiare la partita. Quindi credo che se oggi fossimo usciti da qui con un pareggio sicuramente non avremmo rubato nulla. Grazie. 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 Grazie.